11.15, l'arca di Noè Ehi, di lassù! La pappa è pronta! Friskis Per due scalatori così ci vuole Friskis con le sue ghiottonerie Friskis, nuovi menù per gatti belli e felici E questa cos'è? Ginnastica orientale La circolazione migliora e la mente è più leggera I propositi di leggerezza sono i benvenuti Hanno meno grassi I benvenuti I frollini nuovi preparati con lo yogurt Per darti meno grassi e un gusto unico A colazione Benvenuti i benvenuti Con lo yogurt meno grassi Mangia sano Torna la natura Con Molino Bianco Barilla Manuela vi dà il benvenuto alla vetrina degli affari d'oro Batteria Master Gold Idea Casa Composta da 24 pezzi in acciaio inox 18DAC Con 6 elementi da fuoco da 16, 20, 24 cm Il fondo termodiffusore di 1,5 cm di spessore È un corpo unico con la pentola I coperchi, i manici e i pomoli Sono bordati in finissimo oro 24 carati Ancora un servizio di piatti per 12 persone In purissima porcellana tedesca Bordata con doppio filo in oro zecchino Completo di servizio da caffè 36 calici in cristallo di boemia Acqua, vino, flut Un servizio di posate 49 pezzi in acciaio inox 1810 E infine un bel servizio in silver plate Potrete pagare con semplici bollettini A partire da 63.000 lire al mese Compreso nell'offerta Un soggiorno alle Baleari E in più ha scelta uno di questi meravigliosi oggetti Un TV Color 14 pollici Telefunken Un videoregistratore Una mountain bike con cambio Shimano Una vaporella by Polti O ancora un impianto stereo Non perdete l'occasione di prenotare questa pavolosa offerta Elimina i chili superflui con il Centro Studi Spoleto Con solo due confetti al giorno di composizione naturale E delle giuste indicazioni alimentari Puoi dimagrire da 7 a 25 chili E puoi spendere da 100 a 250 mila lire Non temere più la bilancia Ora puoi dimagrire senza ansia Vuoi saperne di più? Chiamaci Visto? Oggi non è più difficile Chiamaci Centro Studi Spoleto Ora puoi Tempo da lupio Prendi tempo contro i raffodori Tempo è il fazzoletto resistente e affidabile Ma gentile con il naso Tempo A naso il più sicuro Dada Dammi un consiglio per il fondo Verde? Ma dai Ho capito Blu Ti si legge in faccia Friskis Per il talento di Dada Ci vuole Friskis con le sue ghiottonerie Friskis Nuovi menù per gatti belli e felici Cari amici buongiorno Stiamo per riproporvi il Maurizio Costanzo Show Seguirà il telefilm La casa nella prateria Mentre questa sera alle 20 e 40 Avremo appuntamento con scherzi a parte Burle spiritose ai danni di noti personaggi dello spettacolo Condurranno Genegnocchi e Teoteopoli Con la partecipazione di Pamela Prati E ora il Maurizio Costanzo Show A più tardi Riso Flora Il riso che non scuoce mai Presente? Lita era un tipo simpatico Aveva ereditato un bel mucchio di soldi Trattava i miei figli come se fossero suoi A Chris ha comprato un'auto di lusso Non ha ben auto Papà Papà Aggrediti all'improvviso Aspetta che si addormenti Giusto bene E gli scimpiti senza un motivo I suoi figli erano al corrente Nella loro casa Sazione finanziaria Io devo proteggerti mamma Sono venuto a casa per questo Perché stanno dicendo delle cose Ti nasce un sospetto Una tremenda possibilità Dicono che l'ho ucciso io lì Ma ti rendi conto La polizia pensa che l'abbia ucciso io Ti prendi Il freddo cuore di Chris Una prima tv Mercoledì 20 e 40 Canale 5 Mondial casa Piccolo prezzo Grande affare La batteria di pentole a sistema di cottura in acciaio 1810 con fondo pesante alto un centimetro garantite a vita per una sana cucina senza acqua e grassi L'impianto stereo a doppia cassetta L'amplificatore multifunzione e ben 3 anni di garanzia Un tv color 14 pollici portatile con telecomando selezionato tra le marche più prestigiose garantito 12 mesi E' la favolosa mountain bike con cambio Shimano a 18 velocità Tutto questo a sole 898 mila lire a rate senza conto e senza cambiali Telefona subito allo 049 891 1010 Verremo a casa tua gratis e senza impegno con la più garantita la più gradita e la più venduta delle offerte televisive Chiamaci ovunque ti trovi mondial casa consegna in tutta italia Verremo a casa tua gratis e senza impegno E allora prendi la cornetta Mondial casa ti aspetta Mi scusi signorina Signora Siamo in luna di miele E vorremmo che non finisse mai Ah non ve l'avevo detto I viaggi di nozze sulle navi costa sono tutti speciali anche nel prezzo Questo è amore Costa Crociere Navighiamo per divertirvi Per condire a meraviglia la pasta asciutta Sacla ha messo sopra il bello dei pezzettori Sotto il buono di un gustoso trito di verdure E la tua pasta scopre la trazione irresistibile di nuovo con di verde pasta asciutta Il buono del trito per amalgamare bene la pasta fumante Con il bello dei pezzettori Nuovo con di verde pasta asciutta Il bello e il buono di Sacla Perché febbraio è il mese più importante per la casa? Ah c'è il 3x2 standard sulla profumaria E sui casalinghi? Che 3x2? Utile il 3x2 sugli usegetta Fantastico il 3x2 su lampadine e pile Standard Il valore dei soldi Shogun Un set completo di 17 coltelli di altissima qualità Costruite da filati perfettamente per tutti gli usi di cucina Ciascuna lama d'acciaio ha una doppia filatura Che le consente di tagliare cose che nessun altro comune coltello è in grado di tagliare Il primo della collezione è il coltello che state vedendo Che consente un taglio molto sottile e preciso Quest'altro invece è capace di tagliare le costolette facilmente e senza alcuno sforzo Ecco altri 8 coltelli con doppia filatura Che possono tagliare una bistecca come un coltello caldo potrebbe passare attraverso il burro La collezione dei coltelli giapponesi è garantita a vita e non sarà mai necessario affilarli nuovamente Potrete ricevere la casa vostra al prezzo strabiliante di 89.000 lire più spese postali telefonando al numero in sovrimpressione Una presentazione frigoriferi tutto non poste We're più qualità alla tua vita Robert De Niro è un cacciatore di taglie con molta esperienza Charles Grodin è un ragioniere allergico a ogni esperienza Non posso volare, soffro di aviofobia Sperdi questo dannato, papà! La mafia lo vuole stecchito L'FBI lo vuole vivo De Niro lo vorrebbe solo zitto Io sono sicuro che ormai siamo in salto Tutta l'America da attraversare 5.000 km in due giorni L'importante è arrivare prima di mezzanotte Martedì 20.40 Canal 5 Ad una signora che preferisce la polvere abbiamo dato senza dirglielo Dash Ultraliquido Sentiamo cosa ne pensa E' venuto tutto benissimo, bianchissimo Anche mia mamma, lei che usava sempre la polvere Ma che assomma è veramente un liquido L'ho sorpresa Con questo dosatore ho messo il prodotto sul collo Ho messo la finice in lavatrice Assolutamente, bianchissima Pulitissima Mi deve dire come si chiama Nuovo Dash Ultraliquido Bianchissimo Provato io questo e me lo riprendo No, questo me lo tengo io Nuovo Dash Ultraliquido Più bianco non si può Manuela vi dà il benvenuto alla vetrina degli affari d'oro Batteria Master Gold Idea Casa Composta da 24 pezzi in acciaio inox 18 di AC Con sei elementi da fuoco da 16, 20, 24 centimetri Il fondo termodiffusore di un centimetro e mezzo di spessore E' un corpo unico con la pentola I coperchi, i manici e i pomoli Sono bordati in finissimo oro 24 carati Ancora un servizio di piatti per 12 persone In purissima porcellana tedesca Bordata con doppio filo in oro zecchino Completo di servizio da caffè 36 calici in cristallo di boemia Acqua, vino, flutte Un servizio di posate 49 pezzi in acciaio inox 18-10 E infine un bel servizio in silver plate Potrete pagare con semplici bollettini A partire da 63 mila lire al mese Compreso nell'offerta Un soggiorno alle Baleari E in più a scelta uno di questi meravigliosi oggetti Un TV Color 14 pollici Telefunken Un videoregistratore Una mountain bike con cambio Shimano Una vaporella by Polti O ancora un impianto stereo Non perdete l'occasione di prenotare Questa pavolosa offerta Gli elettrodomestici da incasso Philips Whirlpool Sono bellissime sorprese Scopri il frigorifero tutto no frost Nella vastoviglia silenziose I forni col microonde Gli elettrodomestici da vanguardia Philips Whirlpool Valorizzano le cucine meravigliosamente Whirlpool Più qualità per la tua vita Donna moderna E in edicola con Dossier creatività Grigio Glamour E con Donna moderna in regalo Casa Idea Soggiorni d'oggi Spazio al meglio Donna moderna Un record assoluto Un milione di copie Cinque giorni al mese Ventiquattro ore su ventiquattro La pelle è a contatto con l'assorbente Per questo uso Linensidea Perché la nostra pelle è delicata E il filtrante di Linensidea Mi rispetta la naturale delicatezza Solo Linensidea Questo tipo di filtrante in tessuto non tessuto Che ti dà una sensazione naturale di asciutto In quei giorni Rispetta la pelle con Linensidea La sensazione naturale di asciutto Faticoso dare la cera eh? Non per me Io uso TOT giallo La cera morbida TOT giallo si stende facilmente E si lucida in un attimo E se si riga Basta una semplice passata TOT giallo Così lucido Così facile In un TOT Grandi civiltà del passato Un viaggio attraverso il tempo Alla scoperta di mondi scomparsi E millenari segreti Degli antichi egizi Maya Aztechi Incas Ed altri ancora Grandi civiltà del passato Una prestigiosa collana Da oggi in edicola Ecco l'elegante nuova proposta Di Piazzetta Affari Standa Un bel servizio Abert Di 51 posate In acciaio massiccio Inox 1810 Lucidate a specchio Assone 59 mila lire Standa Il valore dei soldi Per venerdì prima Signorina Cray Agente speciale Cochrane FBI Vorremmo parlarne per favore Era una testimone Ma non sapeva esattamente Cosa aveva visto Nessuno vuol farle del male Chi altro sa Era un bersaglio Ma non sapeva Di chi aver paura Ma perché dovrei mentire? Chi crede che la protegga signorina? Lei l'ha visto? Ben Kelly McGillis Labyrintho Mortale Questa sera Alle 20 e 30 Su Italia 1 Commissario Calarno Commissario a Milano Milano non è di far questo E lei non è uno sceriffo Per incastrare i padrini Deve portare un pentito al processo Vivo David Sloan Anche per lui Il nemico è la mafia Questa è una guerra Sloan Ma a Milano È venuto come killer Per conto della mafia Perché? Fabio Testi Michael Nuri Carol Alt In Prima TV Due vite Un destino Domenica e lunedì 20 e 30 Canale 5 Quando la pasta è buitoni Tiene sempre la cottura E con i buoni buitoni In regalo Una tavola in fiore Buitoni La pasta viva Mondial casa Piccolo prezzo Grande affare La batteria di pentole A sistema di cottura In acciaio 1810 Con fondo pesante Alto un centimetro Garantite a vita Per una sana cucina Senz'acqua e grassi L'impianto stereo A doppia cassetta L'amplificatore multifunzione E ben tre anni di garanzia Un TV Color 14 pollici portatile Con telecomando Selezionato tra le marche Più prestigiose Garantito 12 mesi E la favolosa Mountain Bike Con cambio Shimano A 18 velocità Tutto questo A sole 898 mila lire A rate Senza conto E senza cambiali Telefona subito Allo 049 891 1010 Verremo a casa tua Gratis E senza impegno Con la più garantita La più gradita E la più venduta Delle offerte televisive Chiamaci ovunque Ti trovi Mondial casa Consegna in tutta Italia Verremo a casa tua Gratis E senza impegno E allora Prendi la cornetta Mondial casa Ti aspetta Elimina i chili superflui Con il Centro Studi Spoleto Con solo due confetti al giorno Di composizione naturale E delle giuste indicazioni alimentari Puoi dimagrire da 7 a 25 chili E puoi spendere da 100 a 250 mila lire Non temere più la bilancia Ora puoi dimagrire senza ansia Vuoi saperne di più? Chiamaci Visto? Oggi non è più difficile Chiamaci Centro Studi Spoleto Ora puoi Grandi civiltà del passato Un viaggio attraverso il tempo Alla scoperta di mondi scomparsi E millenari segreti Degli antichi egizi Maya Aztechi Incas Ed altri ancora Grandi civiltà del passato Una prestigiosa collana Da oggi in edicola Faticoso dare la cera eh? Non per me Io uso tot giallo La cera morbida Tot giallo si stende facilmente E si lucida in un attimo E se si riga Basta una semplice passata Tot giallo Così lucido Così facile In un tot Mondi al casa Piccolo prezzo Grande affare La batteria di pentole A sistema di cottura In acciaio 1810 Con fondo pesante Alto un centimetro Garantite a vita Per una sana cucina Senz'acqua e grassi L'impianto stereo A doppia cassetta L'amplificatore multifunzione E ben tre anni di garanzia Un TV Color 14 pollici portatile Con telecomando Selezionato tra le marche Più prestigiose Garantito 12 mesi E la favolosa Mountain Bike Con cambio Shimano A 18 velocità Tutto questo A sole 898 mila lire A rate Senza conto E senza cambiali Telefona subito Allo 049 891 1010 Verremo a casa tua Gratis E senza impegno Con la più garantita La più gradita E la più venduta Delle offerte televisive Chiamaci ovunque Ti trovi Mondialcasa Consegna in tutta Italia Verremo a casa tua Gratis E senza impegno E allora Prendi la cornetta Mondialcasa Ti aspetta Questa settimana Sabato 5 Si è trasferito a Venezia Per darvi qualche anticipazione Sul carnevale L'appuntamento è per domani Come ogni sabato Dalle 9 Alle 10.30 Sabato Su canale 5 Largo e i giovani A loro è infatti Dedicata un'edizione speciale Di forum Condotta da Rita Dalla Chiesa Nell'aula di forum Il giudice Santilicheri Risolve con la consueta Imparzialità Litice Discordi O pese Subito dopo Amici Si fa pace Nel salotto di Maria De Filippi E si parla Di amore Sentimenti Nuove mode Alle 13.35 Forum giovani Alle 14.30 Amici Sabato Largo e i giovani Su canale 5 Dal profumo della primavera È nato È nato Lip primavera Con la morbidezza naturale Della lanolina E in più il profumo Della primavera Rivoluzione Nasce Calfort Ultra citrato L'anticalcare concentrato Attivo già Attivo già alle passe temperature Piccolo e pratico Pochissimo prodotto Mantiene la serpentina Libera dal calcare Calfort Ultra citrato Nulla protegge di più Con Lip e Calfort In regale i piatti Dal nuovo film animato Disney La Bella e la Bestia È nuova È compact collection Classica De Agostini Ogni uscita Un fascicolo formato compact Con la storia Le epoche Gli autori E la guida All'ascolto E un cd di alta qualità A sole 9.900 lire Per conoscere la grande musica Di Beethoven Mozart Vivaldi Oggi c'è una collezione Irripetibile Anche nel prezzo E la prima uscita Ciaikovsky È già in edicola A sole 2.900 lire In più Vinci Mini Hi-Fi Mart Compact Collection La musica migliore Al prezzo migliore Donna moderna È in edicola con Dossier creatività Grigio Glamour E con Donna moderna In regalo Casa Idea Soggiorni d'oggi Spazio al meglio Donna moderna Un record assoluto Un milione di copie Mondial casa Piccolo prezzo Grande affare La batteria di pentole A sistema di cottura In acciaio 1810 Con fondo pesante Alto un centimetro Garantite a vita Per una sana cucina Senz'acqua e grassi L'impianto stereo A doppia cassetta L'amplificatore multifunzione E ben tre anni di garanzia Un TV Color 14 pollici portatile Con telecomando Selezionato tra le marche Più prestigiose Garantito 12 mesi E la favolosa Mountain Bike Con cambio a Shimano A 18 velocità Tutto questo A sole 898.000 lire A rate Senza conto E senza cambiali Telefona Subito allo 049 891 1010 Verremo a casa tua Gratis E senza impegno Con la più garantita La più gradita E la più venduta Delle offerte televisive Chiamaci ovunque Ti trovi Mondial casa Consegna in tutta Italia Verremo a casa tua Gratis E senza impegno E allora Prendi la cornetta Mondial casa Ti aspetta New Vigor È subito in forma Fare gli esercizi Per gli addominali A volte costa tempo E fatica E non sempre Vengono eseguiti In maniera corretta Ma oggi Con il nuovo metodo New Vigor È possibile Seguire gli esercizi In modo intelligente Osservate Con New Vigor Gli addominali Non vi stancheranno Ed i vostri muscoli Lavoreranno Con il minimo sforzo Ottenendo il massimo risultato Pensate Otterrete La migliore tonalità Addominale In una sola settimana Abbiamo disegnato Il New Vigor Per dare la possibilità A chiunque Di eseguire Gli esercizi In modo corretto Infatti Con New Vigor Lavoreranno correttamente Sia le parti superiori Inferiori Che laterali Obliqui Dei vostri addominali Potete osservare Dalle immagini I tre metodi E gli esercizi Evidenti Che non crederete Ai vostri occhi Per chi ha problemi di pancia In pochissimi giorni Otterrà notevoli risultati La pancia superflua Sparirà completamente Pensate al vostro fisico Alla salute Dal benessere Telefonate subito E prenotate Il vostro New Vigor Dixan 2000 Dixan 2000 Liquido E Dixan Color Campioni contro le macchie Presentano La centrale di sicurezza L'uso della centrale di sicurezza Quello è giusto Il sacro santo In tutto il mondo La usano Non vedo perché no I barbari Dobbiamo non usarla C'è qualcosa Nella italianità Ogni tanto di barbarico Tutti usano la cintura Non devono Perché da noi Non si usa Da noi è una Cintura di libertà Non usarla Quindi speriamo bene Allora io Dunque vedo lì Un attimo Mi seggo E non dico nulla Tira la cintura di sicurezza Dici ma in auto Sono prudente Tutto qui Ah sì Certo Bene dottor Mughini Alessandro Accompagna Camerini Ah il Camerini Sì Vado Scherzi a parte Nessuno È al sicuro Mondial casa Piccolo prezzo Grande affare La batteria di pentole A sistema di cottura In acciaio 1810 Con fondo pesante Alto un centimetro Garantite a vita Per una sana cucina Senz'acqua e grassi L'impianto stereo A doppia cassetta L'amplificatore multifunzione È ben tre anni di garanzia Un TV Color 14 pollici portatile Con telecomando Selezionato tra le marche Più prestigiose Garantito 12 mesi E la favolosa mountain bike Con cambio Shimano A 18 velocità Tutto questo A sole 898 mila lire A rate Senza conto E senza cambiali Telefona subito Allo 049 891 1010 Verremo a casa tua Gratis E senza impegno Con la più garantita La più gradita E la più venduta Delle offerte televisive Chiamaci ovunque Ti trovi Mondial casa Consegna in tutta Italia Verremo a casa tua Gratis E senza impegno E allora Prendi la cornetta Mondial casa Ti aspetta Un mondo colorato Un mondo divertente Pieno di allegria Quel sorriso allegro Quella linea snella Quella simpatia E tanto gusto In tutti i gusti Dietorelle liquirizia Più linea Più gusto E' nuova E' compact collection Classica De Agostini Ogni uscita Un fascicolo Formato compact Con la storia Le epoche Gli autori E la guida L'ascolto E un cd di alta qualità A sole 9.900 lire Per conoscere la grande musica Di Beethoven Mozart Vivaldi Oggi c'è una collezione Irripetibile Anche nel prezzo E la prima uscita Ciaikovsky E già in edicola A sole 2.900 lire In più Vinci Mini E fa i Mars Compact Collection La musica migliore Al prezzo migliore Ad una signora Che preferisce la polvere Abbiamo dato Senza dirglielo Dash ultra liquido Sentiamo cosa ne pensa Non mi aspettavo Un risultato Così da un liquido Questa che ho lavato Con la polvere Ha lasciato l'alone Questa invece L'ho lavata con il liquido Guardi Adesso com'è diventata bianca Sul bucato bianco Colorato E' venuto tutto Molto bene Vuole sapere che cos'è Scopriamo Nuovo Dash ultra liquido Ecco perché Era stupendo La prova è finita Io posso riprendere No, questo è mio adesso Nuovo Dash ultra liquido Più bianco non si può Mirko Costa Anni 36 Oggi ha un buon tenore di vita Ma domani Potrà mantenerlo Con la pensione minima Con 400.000 lire al mese Avrà una pensione integrativa mensile Di 1.688.000 lire Dalla Mediolanum Della Fininvest Rivolgetevi ai consulenti globali Di Programma Italia Giovanni Rana Vi presenta a questo programma Di 1.688.000 lire E' tutta nuova Ha una copertina più fresca Ed è più bella anche dentro Più attuale Più informata Più curiosa E poi è più utile Ci sono le schede Del pronto soccorso medico Una mini enciclopedia Delle emergenze E quanto le paghi Sono in regalo Ogni settimana Più bella Manuela vi dà il benvenuto Alla vetrina degli affari d'oro Batteria Master Gold Idea Casa Composta da 24 pezzi In acciaio inox 18DAC Con 6 elementi da fuoco Da 16, 20, 24 cm Il fondo termodiffusore Di un centimetro E mezzo di spessore E' un corpo unico Con la pentola I coperchi I manici E i pomoli Sono bordati In finissimo oro 24 carati Ancora un servizio di piatti Per 12 persone In purissima porcellana tedesca Bordata con doppio filo In oro zecchino Completo di servizio da caffè 36 calici in cristallo di boemia Acqua, vino, flut Un servizio di posate 49 pezzi In acciaio inox 1810 E infine un bel servizio In silver plate Potrete pagare Con semplici bollettini A partire da 63.000 lire al mese Compreso nell'offerta Un soggiorno alle Baleari E in più a scelta Uno di questi meravigliosi oggetti Un TV Color 14 pollici Telefunken Un videoregistratore Una mountain bike Con cambio Shimano Una vaporella by Pulti O ancora un impianto stereo Non perdete l'occasione Di prenotare Questa pavolosa offerta Alla standa la primavera Inizia prima e customing Con il tagliere in pura lana Alba Fornari A sole 157.250 lire E se compri questa giacca A 99.000 Avrai la gomma e il regalo Standa Il valore dei soldi Sigle TV Le più belle sigle Dalle trasmissioni Più amate Beach on the beach Sotto sole la pelle Rouge Sigle TV Peccato che non tassano il purè Sigle TV Le sigle che piacciono di più Che sigle fa Un mondo colorato Un mondo divertente Pieno di allegria Quel sorriso allegro Quella linea snella Quella simpatia E tanto gusto In tutti i gusti Dietorelli fragola Più linea Più gusto Mi scusi signorina Signora Siamo in luna di miele E vorremmo che non finisse mai Ah non ve l'avevo detto I viaggi di nozze Sulle navi costa Sono tutti speciali Anche nel prezzo Questo è amore Costa Crociere Navighiamo per divertirvi Donna moderna E in edicola con Dossi e creatività Grigio Glamour E con Donna moderna In regalo Casa Idea Soggiorni d'oggi Spazio al meglio Donna moderna Un record assoluto Un milione di copie Gomma piuma? Sì Pronto? Chi sei? Sono Marisa Raffaella Sono bella Che? A giornalello Dove sta? Nè Ma te l'ha detto Berlusconi Che sono cara Ciao minora Ci servirebbe Un piccolo prestito Sono al vero Oh mamma mia Ma ora non c'ho più Una lira Potete lasciare un messaggio Dopo il bip Bip Oh che guaio L'onorevole non c'è Comma piuma Stasera alle 22.40 Canale 5 E non mi scordo E no che non mi scordo Non mi scordo Di solo a